Ballo ha fatto una buonissima partita, poi è chiaro che il gol in quel momento lì è un ragazzo che ha dato tutto sempre alla squadra, al gruppo, che ha sofferto il fatto di avere davanti a sé nel suo ruolo un giocatore di un livello importante, quindi ha giocato meno, ma fa parte di quel gruppo che ha aiutato sempre la squadra a crescere, sempre la squadra a lavorare molto bene, quindi è una situazione per l'allenatore vedere questi tipi di atteggiamenti e vedere questi tipi di prestazioni, quindi molto contento per lui, perché se lo merita è per tutto quello che ha sempre dato alla squadra, anche se ha giocato più. Onestamente devo dire che forse era meglio che stesse più alto Rafa, ma Rafa ha preso la palla, lui è stato molto intelligente sul lancio di Rafa in series, quindi anche questo denota una certa conoscenza reciproca, un modo di stare in campo, vogliamo attaccare con tanti giocatori, perché ci sia un terzino dentro, che ci sia un attaccante non è così importante, anzi, forse sorprendi di più gli avversari. Grazie a tutti.